chiedo scusa ma c'ho caldo c'ho sonno io io non ce la faccio più ho perso troppo sonno sti giorni tutte partite e due le tre le quattro le cinque di mattina io poi amo il calcio e quindi me le vedo ciao di che cosa dobbiamo parlare quest'oggi bella a tutti dal gabon 20 secondi siamo tornati con questo nuovo video perché mal quit mal qui franco marocchino è un nuovo giocatore del napoli è un terzino destro ma ragazzi fate bene attenzione perché può fare il centrocampista a destra e può fare anche l'attaccante a destra tante scusate che molte volte è stato provato proprio in questo ruolo prima di continuare ragazzi scaricata dal link in descrizione one football la mia applicazione preferita gratuita e di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi ebbene gli obiettivi erano tanti per il napoli alla fine si è deciso di virare proprio su questo giocatore pagato all'incirca 13 milioni di euro queste sono le cifre che trapelano dovrebbe avere un contratto di quattro anni più opzione per il quinto con il lil perché appunto mal quit mal qui è un ex giocatore del lil ha fatto 16 presenze due reti e circa 13 assist ma quali sono le caratteristiche tecnico tattiche di questo giocatore sicuramente è un giocatore a livello tecnico dotato dotato di una buona tecnica di base dotato proprio di assist quindi sa servire molto bene i giocatori i suoi compagni di squadra sa dialogare molto bene nella sua zona di competenza appunto con con gli altri giocatori forse un po' troppo offensivo forse un po' troppo offensivo se pensate che se andiamo a guardare le le statistiche i dribbling che ha tentato risulta uno di quelli che ha tentato più dribbling proprio in ligan addirittura se non sbaglio stavo leggendo una statistica più di mal com per esempio ma non nominiamo più quel tipo di giocatore il punto interrogativo è proprio sulla fase difensiva questo è quello che si stanno chiedendo soprattutto i tifosi del napoli sembra un po' il joao canselo della situazione anche se reputo canselo sicuramente molto offensivo e dotato di capacità offensive e mal quit bo secondo me un po' meno difensivo questo è quello che mi è balzato all'occhio non è che l'ho seguito non è che sono osservatore che vado a guardare tutte le partite anche dell'il e posso posso giudicarlo lo giudico per quel poco che ho potuto vedere in fase difensiva ho sputato tre sputacchi uno sulla sedia uno peggio dell'altro vabbè due sono finiti per terra poi dici che che me samuffisce il parquet e quindi insomma ragazzi lo voglio lo voglio vedere all'opera una cosa è certa che se il napoli ha deciso di virare di puntare su un giocatore del genere un motivo ci sarà probabilmente c'è stato il nulla osta da parte di carletto ancelotti che vede bene il giocatore e pensa che possa farlo rendere al meglio per la prossima stagione probabilmente il napoli credo giocherà con un 4 3 3 potrebbe cambiare ma credo che la difesa a 4 sia la base proprio di carlo ancelotti e quindi qualora dovesse giocare titolare ovviamente vabbè gioca nella difesa a 4 io non ho capito se giocherà realmente titolare o se alla fine gli sarà preferito isai perché è in tersino destro e isai in tersino destro non lo so che ci stanno altri tersini a napoli mo faccio mente locale non mi vengono in mente però non lo so non so fino a che punto come rincalzo secondo me non è assolutamente male è un classe 1991 quindi insomma c'ha 27 anni dovrebbe essere nel pieno della sua maturazione calcistica e lo voglio vedere all'opera perché è inutile giudicare così per il nome è inutile giudicare magari un fenomeno sto a fare un esempio no uno prende il fenomeno dice arriva in serie a diventa una pippa oppure l'opposto uno che non sembra niente di che magari arriva in serie a se trova bene e inizia ad inanellare delle prestazioni incredibili che magari gli fanno salire esponenzialmente la valutazione di mercato è un giocatore che dalla liggan deve venire in serie a dovrà adattarsi chi lo sa che riuscirà a farlo rapidamente o chi lo sa e me che magari non non si ritroverà come come sperava ecco non la voglio buttare a nessuno sto semplicemente dicendo quelle che potrebbero essere le alternative detto questo vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti se il napoli aveva bisogno di un giocatore del genere o se magari aveva bisogno di un terzino un pochino più difensivo vi ricordo di scaricare tramite link in descrizione one football la mia applicazione preferita gratuita di riferimento per seguire il mondo del calcio a 360 gradi e seguitemi anche su instagram gabomen7 profilo telegram anzi canale telegram telegram vi lascio tutto in descrizione oggi post partita della roma roma real madrid non sono partite le feed da nessuno vi siete lamentati del fatto che non ve so arrivate ma perché non sapevate proprio che contenuto era uscito quindi quando siete andati a cercare sul canale avete trovato il video dice ma mannaggia ste feed quindi ragazzi profilo instagram e canale telegram ma attivate anche la campanella a fianco al tasto iscriviti io purtroppo non ce posso fa niente non non dipende da me ragazzi io vorrei fa sempre arriva i contenuti ma purtroppo ripeto non dipende da me mi dispiace andate sempre a dare un'occhiata al canale sapete che io due tre contenuti giornalieri li pubblico sempre che quando gioca la roma ragazzi giocate notte è ovvio che il video faccio il giorno dopo ma se la roma gioca per ditta alle 11 di sera è ovvio che il post partita lo faccio subito dopo lo stesso ovviamente vale anche per le altre partite io mi piace il calcio le seguo quasi tutte quindi su quello rimarrete sempre aggiornati e poi date sempre un'occhiata ecco mi è cascato il foglio là sotto vabbè a più tardi con un nuovo video mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti non solo se ti fate napoli e anche se ti fate altre squadre se avreste virato su altro ragazzi miei a più tardi bella a tutti ciao